Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi andremo a vedere una strategia di trading su Xalp USD Ma adesso andiamo a vedere nello specifico tutto come funziona, però mi raccomando un bel mi piace e l'iscrizione al canale Se arriviamo a 50 mi piace in questo video uscirà un prossimo tutorial di un'altra strategia Ma non è finita qui perché sto provando a fare delle challenge di trading dove parto tipo con 100 dollari Utilizzo questa strategia per vedere se funziona realmente nel tempo E ovviamente porterò il conto avanti per aggiornarvi, per vedere come sta andando e se effettivamente è così efficace come dicono Ma adesso direi di non perderci più in chiacchiere, passiamo al PC e andiamo a vedere come si utilizza questa strategia Quindi per prima cosa andiamo a vedere su che time frame e su quale pair andremo a lavorare Quindi time frame 5 minuti La coppia su cui andremo a lavorare invece è Xalp USD Quindi eccoci qua su Trading View Andiamo subito sul grafico di Xalp USD 5 minuti come abbiamo detto prima Time frame 5 minuti E andiamo a cercare i due indicatori che ci servono Ebbene sì, questa strategia si basa su due indicatori Intanto qua c'era una divergenza, io ho aperto uno short proprio adesso Però se non erro c'era qualche notizia Ma va bene Andiamo subito a vedere gli indicatori Primo indicatore è Smart Money Concept di Lux Algo Eccolo qua Altro indicatore è Nata Raya sempre di Lux Algo E andiamo a vedere questi due indicatori Quindi una volta impostati i due indicatori andiamo subito a vedere come funziona questa strategia Come vedete è molto molto semplice perché già ci indica le posizioni da aprire se in buy oppure in sell Ma ovviamente andiamo a vedere anche come impostare Stop Loss e Take Profit E ovviamente come guardare queste freccette che escono perché se vedete non escono in tempo Solito problema degli indicatori non vi segnala subito la direzionalità del mercato Quindi non vi segnala subito la posizione da aprire quindi non vi da subito l'alert Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare noi a capire quando entrare È veramente molto semplice Quindi passando al lato pratico andiamo a vedere già nelle ultime ore Io sto vedendo proprio adesso Si è verificato già un po' di volte Quando la candela appunto rompe le onde tratteggiate verdi Dobbiamo aprire in sell Al contrario quando la candela invece rompe le onde rosse Dobbiamo aprire in buy Come vedete qua si è verificato Andiamo a vedere Ce l'ha chiamata anche due volte Qua si è verificato e il buy è stato preso Qua si è verificato e il sell è stato preso Anzi probabilmente qui avrei preso Stop Loss per come l'ha imposto io Qua ancora preso Quindi da come avete capito è molto molto semplice Questo diciamo è come si basa la strategia Ma ci sono alcune cose da sapere e piano piano ci arriviamo Innanzitutto come impostare Stop Loss e Take Profit Altra cosa invece come cosa non fare Perché sembra tutto così semplice Però ci sono delle piccole cose che magari possono aiutare a non prendere gli Stop Loss Andiamo come prima cosa a vedere come impostare Stop Loss e Take Profit Vediamo che qui la candela ha già rotto Cosa facciamo? Vediamo che la candela ha già rotto Ovviamente aspettiamo la chiusura di questa candela E aspettiamo che apre la prossima Ovviamente è uscita fuori dalle onde Quindi dovremo aprire il nostro short Ed ecco qua appunto come vado ad impostarlo Faccio il rapporto rischio rendimento 1 a 3 Quindi se andremo a prendere il Take Profit Avremo guadagnato 3 volte tanto Piuttosto che se avremo preso lo Stop Loss Non lo metto proprio abbastanza stretto Perché può capitare appunto che si verifichi una cosa del genere Adesso non so quanto si veda da vicino Zoomiamo Vedete che di poco magari ci va a bugare Ci va a prendere lo Stop Loss Quindi cerco di tenerlo un po' più ampio E appunto tenere il rischio rendimento 1 a 3 Come dicevo prima Ovviamente come vedete questa posizione è stata presa Quest'altra posizione è stata presa Quindi diciamo che più o meno su Stop Loss e Take Profit ci siamo Adesso bisogna andare a vedere le cose da tenere a mente Ad esempio come vedete in questo caso E in questo caso non ci ha chiamato l'alert Come mai? Perché il corpo della candela non ha rotto diciamo queste onde Quindi cosa da tenere in mente è che deve essere il corpo a rompere le onde Come vedete qua Stessa cosa qui non è successo Va bene, nemmeno l'ombra l'ha rotta Però va bene Comunque sia deve oltrepassare le onde appunto con tutto il corpo Questa è una delle cose da tenere a mente Altra cosa da tenere a mente Questa diciamo che non è una legge di questa strategia Ma può aumentare le statistiche di profit Diciamo così Può aumentare la statistica di andare in profitto Ovvero quella di seguire il trend Quindi se è un trend rialzista Cerchiamo i momenti dove appunto il corpo rompe le onde Per aprire i long Mentre se è in fase ribassista Cerchiamo più opportunità per aprire gli short Questo serve soltanto per far aumentare un pochino la probabilità Ma come vedete sia i long che gli short In qualsiasi caso sia che sia un trend rialzista Sia che sia ribassista Vengono messi a segno Come vedete questa è una fase Qua sta iniziando una bella fase rialzista Come vedete qua ha rotto È più facile che venga preso il long piuttosto che lo short Quindi quando è in fase rialzista cerchiamo i long Quando è in fase ribassista cerchiamo gli short Sembra veramente semplice da usare Io adesso quello che vorrei fare è testare questa strategia su un conto reale Magari partendo anche con 100 dollari Tanto è più in scalping Quindi dovrebbe essere operazione secca Non abbiamo così tanti problemi E vedere effettivamente questa strategia quanto rende Questo conto lo dedicherò soltanto a questa strategia Aspettiamo, non so, anche già settimana prossima Possiamo fare un bel aggiornamento Per vedere come sta andando questa strategia Che tipo di profitto ha Eccetera Quindi spero di essere stato chiaro Se volete più informazioni Tranquillamente chiedetemelo sia nel gruppo Telegram Sia nei commenti Vi lascio tutto in descrizione E noi ci vediamo al prossimo video Anzi se avete altre strategie da consigliare Fatemelo sapere